Oh, 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 occhi di corvo, oh, 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 occhi di corvo, pieno di pagliacci, perfetto per me, oh aspetta, comunque vorrei farvi vedere chi aspetta di Umas e chi aspetta di pelle. No, voglio fare almeno su di te, voglio fare, livello 12, con l'account cringe, tutti livello 0? Nah, impronte digitali, sei qui fantasma, dacci un segno, raccontaci che sei. Oh, ma che bello, ma signore, abbiamo anche questo, eh, però non si vede un cazzo, perché sono troppo grosso, abbiamo anche questo, che cazzo è? Ma ragazzi ho il 4%, ma perché faccio il 4% quando voglio morire? Non l'ho mai fatto, da quando ho giocato in live, giuro, non ho fatto un 4% che sia uno. Cioè, questa, cazzo che cringe sta cosa, se ti abbassi nello scalino, ok, dove si è abbassata lei, vedete qua, che c'è uno scalino, vedete qua che c'è questo scalino? Se il survivor qua si abbassa, se il survivor qua si abbassa non lo puoi colpire. Non mi sta neanche guardando. Ma non mi sembra. Oh, cazzo! È proprio brutto. Ma poverino, ma cosa ti ha fatto? Ma guardalo! Ma è così carino! Guarda, c'è pure così sulle capezzoli. Come? Splash! Così? No, poi non so come fa. Questo cosa ti insegna? Il random che hai appena salvato non ti scrive neanche tanks? Basta, il prossimo sarà sacrificato brutalmente. Non me ne frega niente. Vaffa culo. Faccio anche il bravo e questi ne siano neanche tanks. Che brutte persone. It's more time! C'andà! C'andà! Stop dire. Tutti devono sapere che trucchia appartiene a te. Questo momento deve stare per forza nel video funny moment. No, no, dov'è? Dai! Si è nascosto dietro il barile, non si è fatta vedere. Volete vedere una magia? Ora leggete una scritta visits e ora non più. Ora vedete? Ora non più. Non puoi fare la solita signorina della presenza con 90%. No, assolutamente no. Deve essere un mostro deforme. Il mio personaggio su Dark Soul è un mostro deforme. Oh no, raga! La connessione! Sta andando! Ra... Sta andando! Sta andando! No, non rie... Non funziona! Che faccio la cazzo che hai? Ma no! Ma no! Ma allora... Ma allora, Umas! Ma come muori? Ma adesso va bene che ti ha scopato il fantasma. Ma metterti così a 90% è anche meno! Ah, il flame! e quindi ha vinto una pacca sulla spalla meglio una pacca che un pacco sulla spalla ricordatevelo piccole tips di vita comunque e andiamo con impercettibile senza farci sentire let's go si parte bene ciao ecco qua un trap del vatico che si fa fare il trixie dalla signora clownette dopo il 360 non ce la fa la signora clownette scappa via la velocità della luce mentre il signor trapper io sto facendo una telecronica qua sto guardando da lontano che il trapper non riuscirà a prendere la signora clownette che scapperà troppo e invece la presa come hanno detto come tiene la mano immobile e si muove tutto il resto del braccio barra la samba barra samba iei e così non è è tipo così ecco tiene la mano ce l'ha con me no me si può becchè di merda no i e e e e